Siamo con Sabrina Salerno. Ciao Sabrina. Ciao, ciao a tutti. Grazie Sabrina di aver accettato questa intervista perché so che sei gelosa del tuo privato, del tuo passato e anche del tuo futuro. Ma diciamo che non sono una grande amante delle interviste e quindi non ne faccio molte, questa è la verità. Però questa sera sono contenta di essere qua con te. Come è possibile secondo te avere un successo che dura nel tempo a questi livelli? Non è sempre facile, io mi sono trovata in situazioni, devo dire, molto fortunate, di realtà molto positive, tra le quali quelle che hai nominato francesi. Lo spettacolo che praticamente faccio è pensato per i palasporti e per gli stadi, quindi è uno spettacolo. Questa sì è stata un po' una fortuna di essere dentro questo progetto. Come è cambiato in confronto agli anni 80 e 90 il pubblico? Ha voglia di divertirsi, c'è molta energia, quindi non credo sostanzialmente che il pubblico sia cambiato. Sono le persone testarde, mi piacciono le persone che hanno una grande forza. Samantha è venuta con me in Francia, ha fatto per un anno e mezzo la tournée, un progetto che io ho voluto fortemente, che sono contenta di aver fatto con lei, perché comunque Samantha è una persona con la quale io ho condiviso per un periodo di nostra vita, abbiamo avuto una vita parallela, molto simile se vuoi, ad una persona che comunque umanamente stimo moltissimo. Amo il fatto che tu sia una persona che vuole costruire e non distruggere. Esattamente. E levarci verso la luce, perché in tutti i sensi. 10-20 anni fa, immaginavi come saresti diventata, come sarebbe stata la tua vita oggi? Che cosa ti manca, se c'è qualcosa che ti manca, per essere qualcosa che mi manca? Io credo che la serenità, io non credo che uno possa provare, sono piccoli sentimenti, sensazioni, quello di essere pacificamente, placidamente sereni. L'essere umano è un essere torturato, che si tortura, si pone delle domande, e dal momento che ti poni delle questioni, che sono irrisolvibili anche, no? A partire dalla religione, a partire da mille cose, questo non ti può permettere di essere sereno. Come ultima cosa, noi chiediamo sempre ai nostri ospiti di dare un messaggio, se c'è qualcosa che tu senti importante. Posso solo dire, spero che ognuno di noi faccia il proprio percorso.